L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. Grazie a tutti. 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 Tutto qui, ragazzi? Sì, non c'è altro. Non avete dei mobili, qualche sedia, dei tappeti? Ti ho detto che non c'è altro. Ok, capo, d'accordo. Mettiamoci al lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.